Che era armata, arriva! L'uno dei cummins! Del cummins! Cazzo di che ti porto via! Ma la mia domanda! Chiunque! Chiunque! Geniale! Grazie! Ragazzi, guardatelo! si è fesciata va si è fesciata la ratla troppa potenza si è tirato dietro troppa roba il ragazzo ha fatto un blocco si è tirato dietro troppa roba non lo ma custo puoi seller con una rota e che è già finito il barato e che è già finito il barato La maiala